3x, 3-1-1, maturati domenica per le molisane, tre risultati diversi nel modo in cui sono arrivati ma che non cambiano la sostanza a livello di punti in classifica. Partiamo dal campo basso, a Tolentino Cudini ha cambiato diversi elementi e modulo iniziale. Si è passati ad un 4-3-1-2 cercando una maggiore densità in campo anche per permettere agli attaccanti di giocare più vicini alla porta. Qualche occasione in più è arrivata rispetto alla gara contro il notaresco. John Bay ha avuto un paio di occasioni come Alessandro che ha anche fallito il rigore oltre alla rete di bontà. Insomma rispetto alla sconfitta interna si è visto un lupo migliore concentrato e sul pezzo. Peccato per il risultato positivo a metà se consideriamo anche l'inferiorità numerica per oltre 20 minuti dopo il rosso a Fabriani. Serve una crescita ulteriore però per macinare vittorie anche in occasione del rosso al terzino destro sugli sviluppi di un corner a favore è partito un contropiede clamoroso terminato con il fallo necessario di Fabriani per evitare il 2-1. Insomma piccoli elementi che servono per cambiare passo. Se pensiamo al rigore fallito, all'espulsione e qualche altro accorgimento ecco che viene fuori il risultato che poteva essere diverso. Detto questo bene gli ingressi di Dalmazzi in difesa, il rientro di Candelloro in mediana e di John Bay in avanti che ha dimostrato sicuramente maggiore vivacità rispetto a Musetti apparso in ritardo nelle ultime uscite di campionato. In archivio la trasferta di Tolentino inizia una settimana importante in casa rosso-blu chiaro che siamo alle prime battute di campionato è altrettanto vero che domenica al Selvapiana contro la Vastese è assolutamente necessaria la vittoria. Non è una questione di pressione oppure di tempo il campionato è appena iniziato e ci sarà tantissima strada da fare ma ora serve un successo per rimettersi in carreggiata e giocare anche con maggiore tranquillità. Al Civitelle un pareggio che lascia un po' d'amaro in bocca e Granata contro il San Marino si poteva portare a casa il risultato pieno insomma l'occasione propizia per sbloccarsi a livello di vittorie. È arrivato comunque il primo punto stagionale certo la classifica si muove e questa può essere una prima iniezione di fiducia a tutto l'ambiente. Dopo il primo gol stagionale di Acosta i Granata hanno subito il pareggio del San Marino ancora una volta da calcio piazzato. Altra dormita su situazione di palla inattiva errori che vanno assolutamente limitati nel proseguo del campionato. Nel secondo tempo pochissime occasioni se non due calci piazzati dal limite procurati da Acosta e mal sfruttati. Insomma al Civitelle serve qualcosa in più le salvezze si costruiscono in casa dove nel bene o nel male bisogna vincere. Anche qui solito discorso è chiaro che siamo ad inizio stagione ma è altrettanto vero che questi bonus casalinghi vanno sfruttati al massimo. La squadra è comunque cresciuta nettamente rispetto all'esordio contro il Monte Giorgio. A Rakiri invece per il vasto Girardi il pareggio di Avezzano porta sicuramente amarezza per come è maturato. I gialloblu hanno sciorinato una prestazione autorevole creando diverse occasioni durante tutto l'arco del match e mantenendo sempre alta la pressione. Farina ha ruotato qualche pedina di Lullo e Lepore dal primo minuto il luogo di De Feo e Gargiulo. Anche in avanti Kirema Teng è entrato a gara in corso maglia da titolare per Daguano che si è fatto trovare pronto siglando il gol del momentaneo vantaggio. Insomma questo dimostra che il tecnico ha diverse alternative con una rosa completa in ogni reparto. Poi il gol immeritato dell'Avezzano anzi l'autogol dei giallobluna dinamica raramente vista con tanta sfortuna. Da un lancio lungo svirgolata di Mikhailovsky poi il tocco con la coscia involontario di Ruggeri che di fatto ha spiazzato Caparro pronto ad intervenire. Insomma davvero è successo di tutto in una frazione di secondo che di fatto è costata due punti al Vasto Girardi. Si riparte da cinque punti fatti in tre giornate un bottino rilevante in vista della sfida in programma domenica al Civitelle contro il Pineto.